Eccoci qua, abbiamo il piacere di avere ospite Umberto Tirelli, noto oncologo, ma qua in veste di direttore del centro tumori ed ozonoterapia della clinica Mede di Sacile, in provincia di Pordenone. In questa puntata parliamo appunto di ozono, il titolo è Il bello dell'ozono, ma leggo da una recente intervista su Repubblica, dove si parla di nuove terapie, è scritto, ernie del disco, ulcere, fibromialgia, in supporto ai malati di cancro, ma anche contro la cellulite, il gas blu, vale a dire l'ozono, è sempre più utilizzato come antifiammatorio e antiossidante, con protocolli riconosciuti dal Ministero e con specialisti DOC, di cui ne abbiamo uno qua. Ma insomma, serve un po' per tutto questo ozono? Effettivamente ha delle proprietà ancora nascoste, buona parte, ma molte sono già venute fuori molto chiaramente. Intanto è un blast, tanto per non dire una corpelleria. Sì, 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 è una miscela di ossigeno e ozono, ma è l'ozono quello che veramente conta. Si genera da un generatore apposito, l'ozono è un gas instabile, in poco tempo perde le sue capacità, ma ha veramente delle proprietà notevoli, questi sono tutti i studi fatti sugli animali, in laboratorio, qui si vede le proprietà alla fine antiossidante dell'ozono, che agisce quindi in un sacco di malattie croniche, per quello che può servire in tante cose. Malattie croniche dove i radicali liberi, che sono tossici sulle varie cellule, vengono bloccati appunto dall'ozono, quindi in questa maniera ha una sua attività. Ma quello che era, diciamo, la prima area di terapia, sono le ernie lombari o cervicali, dove in infiltrazione locale ha dei grandi benefici, effettivamente molti pazienti, gli stessi chirurghi alle volte invitano i pazienti a fare questa terapia perché è molto meno tossica, anzi non è tossica per niente, l'ozono terapia è del tutto priva di tossicità, sia fatta in infiltrazione, ma fatta anche per via venosa o per via rettale, queste sono le tre vie più comuni, ma ce ne sono anche delle altre evidentemente. Comunque l'ozono è veramente un potente antinfiammatorio, antidolorifico, energetico, immunomodulante che agisce poi, come dicevo prima, attraverso una via antiossidante. Quindi io mi sono veramente sbalordito quando ho visto i primi casi che facevano il trattamento per la sindrome da fatica cronica, pazienti che erano affaticati in maniera patologica, avevano tutta una serie di sintomi per cui avevano una sindrome da fatica cronica, che effettivamente ha avuto dei risultati notevoli sulle loro fatighe. Giovani, soprattutto sono giovani quelli che vengono colpiti dalla fatica cronica post-infettiva, post-fatti infettivi, si genera un problema immunologico per cui il paziente ha una grande stanchezza, ha una serie di sintomi tipo come avere un'influenza cronica, disturbi della concentrazione della memoria, e qui fa gli angeli di sindrome da fatica cronica, ragazzi, giovani dopo un fatto infettivo, la mononucleose e quant'altro. E in questi soggetti abbiamo riscontrato su 65 pazienti, lo stiamo pubblicando adesso su una rivista medica, un risultato sull'80% dei casi, cioè c'è stato un miglioramento notevole. Il tutto in questo caso si fa per via venosa, si fa una flebo, diciamo, si mescola il sangue con l'ozono, lo si rinfonde e quant'altro, insomma, è una procedura del tutto priva di tossicità, questo è importante, e dà dei risultati molto buoni. Poi la fibromialgia è l'altra patologia molto comune, che colpisce circa 2 milioni di italiani, mentre la fatica cronica si calcola circa 500 mila italiani, quindi le patologie sono rare, ecco. Nella fibromialgia invece prevale il dolore, cioè un dolore veramente diffuso, con rigidità mattutina al collo, e poi dopo tutta una trasformazione di sintomi tipo stanchezza e quant'altro. Tutte e due le classificazioni sono classificazioni fatte, la prima dal CDC di Atlanta, che è una specie di Ministero della Salute americana, fatta già nel 1994, ed ero anch'io presente, sono coautore di questa classificazione di Allola del 1994, della Crohn-Infatic Syndrome, la seconda invece è la fibromialgia dell'American College of Physicians of Reumatology, i reumatologi hanno fatto questa definizione di caso, perché non esistono esami del sangue che dicono tu hai la fibromialgia o tu hai la fibromialgia, la fibromialgia o la stanchezza cronica, sono due diagnosi che si fanno sulla base clinica e con l'esclusione di altre cause, ovviamente uno fa degli esami per escludere altre cause in tutte e due le patologie. Poi un altro tipo di fatiga molto importante, che è sottovalutato, devo dire, è quella nei tumori. Molti pazienti con tumori o durante il trattamento, che sia medico, radioterapico, chirurgico, quello che sia, o dopo i trattamenti, anche con la malattia presente e avanzata, hanno una fatiga per la quale una spossatezza, fatiga è il termine in inglese, ma spossatezza rende il termine italiano, per la quale non esistono farmaci, purtroppo. Mentre per il dolore nei tumori abbiamo gli opioidi, la morfina e quant'altro, che sono farmaci che pur con degli effetti colaterali importanti, però agiscono sul dolore, nella fatiga invece è un sintomo difficile da controllare, anzi non ci sono farmaci specifici. Ebbene, l'ozonoterapia ha un'efficacia dimostrata, l'abbiamo dimostrata noi per la prima volta nella Clinica Media di Sacile, l'abbiamo pubblicata a livello internazionale recentemente, e che dimostra anche qui di circa il 70-80% dei pazienti che hanno questo segno, questo sintomo importante, dei pazienti anche con malattia molto avanzata, gente che aveva poca aspettanza di vita davanti, però erano così spossati, per cui la loro vita era veramente di qualità scarsa. Con l'ozono sono ritornati a stare molto meglio, perché l'ozono è un potente energetico, qualsiasi sia la causa di cui arriva la stanchezza. Credo che anche le ulcere, credo che anche le ulcere siano particolarmente diffusi. Dopo, dopo, questa è un'altra situazione ancora, dei vascolari, ulcere, qui ci sono dei centri, per esempio il Trivulzio di Milano, che è un ospedale geriatrico con mille pazienti ricoverati, mille, dove peraltro la regione Lombardia ha permesso l'utilizzo dell'ozono come terapia che viene supportata dalla sanità lombarda. Ecco, perché credo che ci sia un problema... Sì, un problema che in molte parti d'Italia, ci sono solo i centri privati, come il nostro di Sacile, ma invece cominciano a esserci, come in Lombardia, già dei centri pubblici che ammettono e supportano l'ozono terapia, che non è costosissima, insomma, i costi ci sono, perché immaginate fare le trasfusioni, fare, insomma, dei costi, ci sono anche i costi vivi, poi c'è un infermiere e quant'altro, quindi un costo c'è, ebbene, in Lombardia in alcuni centri già l'hanno supportato, l'hanno riconosciuta come terapia che viene coperta dal sistema sanitario lombardo. Come d'altra parte, la sindrome della fatica cronica, per esempio, ho scoperto non tanto tempo fa che in Emilia ci sono degli ospedali, c'è l'ospedale di Bologna, il Malpighi di Bologna, dove c'è un centro per lo studio della sindrome della fatica cronica. Mi ha fatto molto piacere questo, perché un ospedale pubblico che studia la fatica cronica, cosa che io da 30 anni faccio, ma tutti mi ridevano anche un po' dietro, all'inizio almeno, per cui avere che la Bologna, il centro, il più grosso ospedale di Bologna, universitario, ospedaliero, ha un centro per la stacchetta cronica, devo dire che mi ha fatto molto piacere, perché nel senso che ho visto riconosciuto un po' gli sforzi, ho fatto per tanto tempo per diffondere informazioni come stiamo facendo adesso su questa patologia. E la fibromialgia, ecco, è la stessa cosa, dove le associazioni sia dei pazienti di fibromialgia sia della stacchetta cronica stanno facendo molto perché venga riconosciuta la loro patologia, venga supportato dallo Stato, sia per i problemi, perché ci sono dei pazienti che non riescono ad andare a scuola, o a scuola, scusate, o a lavorare, per cui non riescono più ad andare avanti nella loro vita, per cui devono avere un supporto. Ecco, ma l'ozonoterapia è un palliativo della situazione o è curativa? Ecco, allora, può essere anche curativa effettivamente, però per quella che ho la mia esperienza è un trattamento un po' cronico, non è che si risolve definitivamente, almeno parlo delle patologie che ho io in cura, diciamo di stanchezza cronica, fibromialgia, però non ha assolutamente alcun effetto collaterale, non sono come le medicine che si è prese per lungo tempo, sono degli effetti collaterali sullo stomaco e quant'altro. Qui proprio è una questione di dover fare un mantenimento, c'è un attacco che dura circa un mese, due volte alla settimana, per dire un mese, e qui c'è il vantaggio, c'è il beneficio. Dopodiché c'è un mantenimento per mantenere, diciamo nel tempo, il risultato ottenuto. Questo è un po' più difficile da farsi, anche perché non per gli effetti collaterali, ma perché il paziente si stanca dopo aver fatto un mese di terapia, dice sto bene, adesso non faccio più niente. C'è da dire che poi se c'è una ricaduta dopo un anno o due, si può riprendere pari pari il trattamento d'inizio, non c'è nessun effetto collaterale a sommare trattamenti diversi, eccetera, eccetera. Comunque è un qualcosa di più, molto importante, che c'è di più. C'è sicuramente scetticismo, non metto in dubbio che non tutti, perché non sanno di questa cosa, non hanno visto i pazienti. È una pratica innovativa. Io stesso ero scettico quando mi hanno inseguito per dire guardi che i medici, i miei colleghi, dicono guarda che sulla stanchezza funziona, cioè ma ovviamente funziona. Poi quando ho visto le cose mi sono reso conto che effettivamente dicevano il vero. E poi bisogna poi mettere tutto sotto un profilo di ricerca medica, di fare delle cose serie, che purtroppo in certi paesi, per esempio negli Stati Uniti, che fanno chiunque, fa queste robe, o mette in mescola, allora diventa un problema serio, come se da noi fosse permesso di fare chemioterapia a chiunque. Uno fa dei dosaggi a suo piacere, altre, come succede, però ancora da noi, diciamo che ci sono delle cose strane, anche nella terapia dei tumori, di tutte le malattie. Rispetto alla medica noi abbiamo l'immagine del doc che apriva il carro nel paruette e aveva gli risoluzioni per ogni malattia. Sì, qualcosa di molto importante per patologie che ho potuto vedere, chi vuole andare per esempio su Facebook, se va sul mio profilo, ci sono delle testimonianze di persone che con fibromialgia o con artrosi, ecco per esempio un'altra cosa che mi ha colpito molto, che è riportata un'intervista appunto sul mio profilo Facebook, una signora di 85 anni, di vicino lì a Sacile, che è venuta con la figlia dicendo che questo non cammina più, ha dolori pazzeschi, che ha le ginocchia, tutto ha le ginocchia. Aveva fatto già una protesi d'anca 10-15 anni prima, ma adesso il chirurgo gli ha detto no, guardi, ha 85 anni, ha problemi di cuore, non la opero. Però questo aveva dolori e non camminava. I dolori sono andati via e cammina, cammina ancora oggi. Quindi se volete andare a vedere questa esperienza, c'è su questa intervista. quindi sono delle cose che anche a me hanno colpito, diciamo, nel senso che con poca spesa, diciamo, nel senso di cose non tossiche, facendo qualche filtrazione sul ginocchio, perché poi si ottengono risultati così importanti, proprio perché l'ogono è veramente potente. Ci fermiamo e rimandiamo alla pagina Facebook di Umberto Tirelli, professore, noto oncologo, ma qua in veste di direttore del Centro Tumori e di Ozonoterapia della clinica Mede di Sacile in provincia di Pordenone. Grazie per queste informazioni. Alla prossima! Grazie per la visione!